Sì, innanzitutto devo ricordare che a livello di dormitori comunali siamo una delle pochissime città italiane che ha elaborato sia lo scorso anno che quest'anno un piano freddo in termini proprio di dormitorio comunale. E si tratta di un piano freddo, ma noi adesso vogliamo andare oltre perché anche in base all'andamento e alle linee guida di carattere europeo il tema di un dormitorio per tutto l'anno è ormai superato. Il dormitorio di per sé è un'attività di assistenza, di mera assistenza. Invece noi vogliamo portare avanti un progetto innovativo, l'abbiamo appena approvato anche in giunta, quello cioè della casa prima di tutto. Creare delle micro realtà all'interno di singoli appartamenti, costituite proprio da due, massimo tre persone che non hanno la propria casa e che essendo state persone senza dimora vengono aiutate e sostenute da un gruppo di esperti che li sostengono per potersi reintegrare e quindi reinserire sia a livello sociale e soprattutto altrettanto a livello lavorativo. Fare questo lo possiamo fare perché vi sono dei fondi europei, dei fondi a cui noi abbiamo accesso attraverso la stessa regione Abruzzo e quindi è un percorso che noi abbiamo già intrapreso. Andare oltre perché non si tratta più di assistenza ma bisogna riportare, reinserire chi è ormai ai margini e troppo spesso è considerato invisibile. Si tratterà di case che vengono prese in affitto proprio dal comune, che vengono naturalmente l'affitto e tutte le spese vengono sostedute proprio nell'ambito del progetto del PONFEAD che è un vero e proprio importante progetto dedicato proprio alle persone senza dimora. Quindi noi stiamo lavorando proprio in questi termini.